L'altina a mare consiste in una specie, potremmo definirla una specie di albero della cuccagna in orizzontale, non in verticale, in quanto su un barcone da pesca viene posizionato nella parte della prua un lungo palo con spasso di sapone e in punta al quale viene messa una bandierina. I concorrenti si sfidano attraversando questo palo facendo molta attenzione perché si scivola e scivolando si va a cadere in acqua, riproveranno centinaia di volte fino a quanto uno arriverà a prendere la bandiera, a tal punto avrà vinto il premio. La strada di Tulsa che è bellissima, la natura l'ha fatto bellissimo veramente, una bellissima spiaggia, bellissimo mare. È una tradizione e le tradizioni si mantengono, è un momento bello perché la dediciamo sempre alla Madonna, perché la Madonna della Catena per noi è il nostro centro protettore, la nostra Madonna. Che fai benissimo per vedere tutte le nostre belle risorse che abbiamo. Una bella giornata, bellissimo mare e finalmente dopo tre anni di nuovo la festa. Bellissima cittadina, veniamo da Collesano noi e veniamo appositamente a vedere quest'antinnammare e questa bellissima festa della Madonna della Catena. Abbiamo visto a Cefalù, è la stessa manifestazione però in formato diverso perché lì diciamo che la trave è montata direttamente sul porticciolo e comunque bella pure, suggestiva. È una tradizione che non si più riproponeva da due anni e francamente è una bellissima cosa, una bellissima tradizione. Tra l'altro oggi il tempo è anche molto clemente, quindi sono veramente contento di essere qua, splendido. Splendida Sicilia, splendido Castel di Tusa. Ma io l'ho visto sempre l'antinnammare a Marina di Caronia, a Marina di Caronia, a Sant'Agata. Ora lo sto vedendo qua, qua è la prima volta. Non ti piace di più di questo paese? E gli scogli dove tu farsi e il mare. A Cefalù potevano partecipare soltanto gli uomini, qua invece possono partecipare tutti? Sì, qua possono partecipare tutti. Chi si sente di farla lo può fare tranquillamente. Ora inizia il secondo giro. Ecco una ragazza che sta... Eh ma è molto difficile, è molto difficile, è pesante. Poi anche salire in barca, eh. Salire in barca non è facile. Pure che c'è una scaletta, però... È pesante. Bello, stancante nello stesso tempo. Molto... una bella emozione. Mi dica un po', cosa rappresenta questo giorno per lei? Qualcosa di veramente unico. Bello. Cosa ha provato quando tra le sue mani ha stretto la bandiera? Beh, soddisfazione alla fine.